Via libera dell'Assemblea Legislativa delle Marche alla legge che riduce il numero dei consiglieri da 42 a 30 e quello degli assessori da 10 è un massimo di 6, con la possibilità di un solo assessore esterno. Il relatore di maggioranza della proposta di legge era Rosalba Ortenzi, l'abbiamo intervistata. Sì, è una legge che è composta solo da 4 articoli, molto semplice, modifica il vecchio statuto della Regione Marche. Credo che sia importante soprattutto perché va ad evidenziare la virtuosità di una Regione che ha già preso diversi comportamenti, atteggiamenti nei confronti dei costi della politica. Dopo il dibattito in aula è passata la formula del testo base proposto dalla Giunta che prevede la rappresentanza di genere, le cosiddette quote rosa, ma senza quantificare il numero di assessori donna. Sempre nella seduta di martedì 11 dicembre l'Assemblea ha approvato una legge che interviene nell'ambito della trasparenza dei patrimoni per chi ha incarichi pubblici. Io personalmente da sempre dico che ogni persona, ogni rappresentante del popolo che viene eletto deve dire alla popolazione, ai cittadini, raccontare la sua situazione patrimoniale. Cioè se negli anni di presenza nelle assemblee legislative, come per me in questo caso, o nelle giunte, la situazione patrimoniale non sia modificata in maniera eccessiva rispetto agli emolumenti che pure in questi anni ha percepito.